Nuovo appuntamento con Padre Pio, storia di una vita. Come sempre ogni settimana, il lunedì, ci accompagna il nostro direttore Stefano Campanella nella storia attraverso aneddoti, racconti della vita di San Pietro e Pietrelcina. Bentrovato Stefano. Bentrovato a te Francesco e bentrovati i nostri telespettatori. Ebbene, la scorsa settimana Stefano abbiamo cominciato ad intraprendere un cammino insieme a Padre Pio, un'immagine che forse pochi conoscono, quella di Padre Pio, soldato. E ci sono diverse espressioni che fanno un po' sorridere, soprattutto su come si considerava lo stesso San Pio quando ricordava questi aneddoti e questi fatti con i suoi confratelli. Sì, in effetti è stata una parentesi difficile nella vita di Padre Pio, una delle tante parentesi difficili, ma questa esce un po' dagli schemi della consueta tipicità delle difficoltà che lui ha dovuto affrontare. Perché la gran parte delle situazioni difficili per Padre Pio sono derivate dalla malattia prima e poi dalle indagini che lo hanno riguardato, a partire dalla stigmatizzazione perenne definitiva, quella di San Giovanni Rotondo, nel 20 settembre 1918. Questa della parentesi militare è stata certamente motivo di sofferenza, come abbiamo già avuto modo di dire. sofferenza causata principalmente dal rischio di dover affrontare un tipo di vita incompatibile con le sue condizioni di salute e poi dalla difficoltà da parte sua che non aveva mai tolto da quel giorno in cui lo mise per la prima volta a Morcone e l'abito cappuccino di indossare la divisa e quindi di dover per la prima volta privarsi dell'abito di San Francesco. Tutto questo riuscì ad essere vanificato, sebbene con un grande stato di tensione, quando ci fu la chiamata alle armi perché dopo varie peripezie, dopo un riconoscimento della malattia da parte di alcuni ufficiali medici, ma dopo che altri superiori lo avevano dichiarato idoneo al corpo e poi mandato già a svolgere il servizio militare all'ospedale della Trinità di Napoli, dove però Padre Pio, come si suol dire, marcò visita, cioè fece presente i suoi malori quando arrivò a destinazione, dove fu tenuto in una situazione di attesa senza essere incorporato, dovendo pagarsi vittu e alloggio presso una pensione, fino a che una visita collegiale, come abbiamo visto, non gli ha permesso di vedersi riconosciuto il precario stato di salute e da ciò arrivò una licenza, una licenza di convalescenza di un anno. Terminata la quale Padre Pio non rientrò a Pietrelcina, da dove era partito per fare il militare, ma rientrò a San Giovanni Rotondo, perché in questo anno di convalescenza alcune cose erano cambiate. Era accaduto infatti che all'inizio del 1916, ricordiamo che la licenza di convalescenza Padre Pio la ritirò il 18 dicembre del 1915, a febbraio del 1916 Padre Agostino scriveva a Padre Pio una necessità da parte di una nobildonna foggiana, Raffelina Cerase, che Padre Pio dirigeva spiritualmente per via epistolare, l'esigenza di conoscere questo frate che la guidava per le vie dello spirito. I due infatti non si erano mai incontrati e Raffelina Cerase era ormai prossima a terminare il suo cammino terreno perché gli era stato individuato un tumore al seno e in seguito all'intervento che aveva subito la malattia non era stata debellata. Quindi Raffelina Cerase voleva prima di morire conoscere personalmente Padre Pio. Padre Agostino aveva scritto a Padre Pio, Padre Pio doveva prontamente rispondere con generosità a questa chiamata ma non poteva farlo per ragioni di salute perché si ammalò, ha preso una forte influenza. Terminato lo stato febbrile Padre Pio si incamminò verso Foggia pensando di dover stare lì soltanto un giorno sebbene Padre Agostino gli avesse già preannunciato che sarebbe stato necessario magari trattenersi un po' di più visto che Raffelina stava per morire visto che affrontava quel lungo viaggio e quindi sarebbe stato magari opportuno sfruttare il più possibile la sua permanenza a Foggia per stare almeno qualche giorno al capezzale di questa nobildonna, nobile non solo per nascita ma anche per sentimenti. Padre Pio si portò quindi qualcosina in più per rimanere qualche giorno a Foggia ma non sapeva effettivamente qual era il piano che avevano architettato Padre Benedetto e Padre Agostino. Difatti noi già abbiamo concluso la scorsa puntata accennando ad una lettera di Padre Agostino a Padre Pio nella quale Padre Agostino rivelava l'imbarazzo di Padre Benedetto che era anche il provinciale nel continuare a sostenere una situazione che dal punto di vista delle norme interne all'ordine dei frati Cappuccini era insostenibile. Padre Pio era fuori dal convento ormai potremmo dire da diversi anni. Il periodo di permanenza a Pietrelcina sebbene non sia stato continuativo e abbia avuto dei piccoli tentativi di rientro in convento che non duravano più di un mese andava avanti dal 1908. Siamo nel 16 quindi potremmo dire che di fatto da otto anni Padre Pio era fuori dal convento e Padre Benedetto aveva un certo imbarazzo soprattutto nei confronti del Ministro Generale ma poi lo stesso Padre Agostino aveva fatto presente a Padre Pio che gli altri confratelli non erano tutti disponibili a credere nelle effettive difficoltà di Padre Pio a rientrare in convento, difficoltà originate dalla salute. Qualcuno pensava che a Padre Pio facesse comodo questa situazione e Padre Agostino glielo scrisse senza mezzi termini. E quindi per tentare di venire fuori da questa situazione come ho accennato Padre Benedetto e Padre Agostino architettarono un piano consistente nell'attrarlo a Foggia con il pretesto ma era una necessità reale di stare accanto a Raffaellina Cerase però quando Padre Pio arrivò al convento di Foggia si ritrovò Padre Benedetto che gli disse senza mezzi termini tu adesso rimani qui in convento vivo o morto. Quell'espressione vivo o morto fa riferimento alle difficoltà che Padre Pio aveva avuto in passato quando aveva nuovamente rimesso piede in convento, cioè i malesseri si erano riacutizzati e Padre Pio era stato quasi sull'orlo di morire, tanto erano forti i conati di vomito, l'impossibilità a mangiare, i forti dolori al petto e l'emotisi, cioè l'emissione con la tosse anche di sangue attraverso l'espetto nato. Perché Padre Pio viene ricondotto con questa frase molto dura al rientro in convento? Perché Padre Benedetto si era convinto nel frattempo che la malattia del suo discepolo, perché era anche Padre Benedetto il direttore spirituale di Padre Pio, fosse in realtà di origine diabolica. Tanto è vero che si riacutizzava quando Padre Pio era in convento e si dissolveva quasi o comunque si attenuava molto quando tornava a Pietrelcina. E ciò avveniva anche nel convento di Morcone, perché per un certo periodo fu mandato anche là, dove l'aria è simile a quella di Pietrelcina, perché Morcone si trova più o meno alla stessa altezza di Pietrelcina e sono due paesi a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altro, quindi con un tipo di vegetazione, quindi di aria tutto sommato simile. E quindi Padre Pio fu costretto, perché è sempre stato comunque obbediente, a farsi mandare da Pietrelcina tutto quello che era rimasto là, che gli sarebbe servito a continuare una regolare vita in convento e rimase quindi a Foggia fino al 25 marzo del 1916, quando Raffalina Cerase morì e anche oltre affrontò anche quindi il periodo estivo in una affosa città quale è Foggia e proprio il calore estivo, come abbiamo anche detto in passato, indusse Padre Paolino da Casacalenda a fargli fare un'esperienza nel convento di San Giovanni Rotondo, dove si trasferì diciamo temporaneamente dal 4 settembre del 16 e dove poi con l'arrivo di Padre Benedetto a ottobre di quello stesso anno rimase, anche in questo caso per un certo periodo abbastanza lungo ma poi di fatto rimase per tutta la vita. Quindi quando il 28 novembre del 1916 Padre Pio si doveva ripresentare, terminata la licenza di convalescenza di un anno all'ospedale militare per ricevere opportune istruzioni, si trovava a San Giovanni Rotondo e questo rese un po' complicato anche la consegna del foglio di richiamo alle armi perché fu attraverso i carabinieri tentato di ricapitare a San Giovanni Rotondo ma qui nessuno conosceva Francesco Forgione perché per tutti era Padre Pio da Pietrelcina e ovviamente nel nome, nel cognome di Padre Pio erano conosciuti perché all'epoca i frati venivano identificati con il nome da religioso e il paese di provenienza. Quindi il nome e il cognome di Battesimo che erano quelli con i quali era invece conosciuto come soldato Padre Pio erano ignorati da tutti, non solo a San Giovanni Rotondo ma anche a Pietrelcina dove con difficoltà e soltanto arrivando a bussare alla porta della casa di una sorella di Padre Pio si arrivò ad identificare in Padre Pio da Pietrelcina quel soldato Francesco Forgione che era cercato per riprendere il servizio militare per verificare la sua idoneità a continuare il suo servizio presso la patria. Quindi Padre Pio che aveva anche rischiato di essere processato per diserzione comunque riuscì ad arrivare a Napoli e in quel periodo trascorse un momento di vera difficoltà anche dal punto di vista spirituale. Dobbiamo dire che prima di partire cercò l'aiuto da parte di alcune figlie spirituali che a loro volta si rivolsero ad un loro amico di Napoli per tentare di ottenere il riconoscimento di una malattia che Padre Pio aveva visto durante la precedente esperienza militare non facilmente gli fu effettivamente riconosciuta subito perché c'erano tante difficoltà, perché i medici preposti erano presi da tanti impegni perché talvolta le visite erano superficiali. Comunque Padre Pio arrivò a Napoli e trascorse in attesa di decisioni da parte degli ufficiali medici anche il Natale del 1916 sotto le armi e fu un Natale difficile per lui ma anche per gli altri sacerdoti che erano ricoverati presso la stessa clinica perché riuscirono soltanto a partecipare alla messa di mezzanotte ma non era facile per loro perché tutto era regolato in maniera potremmo dire ossessiva anche l'accesso alla cappella dell'ospedale militare era diciamo non facile da ottenere e all'epoca vogliamo ricordare per i nostri telespettatori che non conoscono quelli che erano le consuetudini della chiesa i sacerdoti erano tenuti a celebrare non una ma tre messe nella notte di Natale quindi c'era la difficoltà avendo partecipato ad una e quindi avendo potuto fare la comunione in quella messa di poter celebrare almeno le altre due e quindi si ritrovò Padre Pio con l'amarezza anche di altri sacerdoti che erano ricoverati all'ospedale militare e che addirittura arrivarono arrivavano a piangere perché non sapevano come fare ad assolvere a questo diciamo obbligo obbligo che era anche per Padre Pio e che rendeva triste anche Padre Pio quindi riuscirono ad intrufolarsi nella cappella interna perché Padre Pio aveva scoperto aggirandosi dalle parti della cappella già da diverso tempo un'entrata segreta e la prima cosa che fecero i due sacerdoti ricoverati fu procurarsi le ostie grazie ad un soldato che faceva la guardia proprio alla cappella le ostie e il vino e cominciarono subito a dire le tre messe. A un certo punto subentrò nella cappella la figlia del sagrestano che si rivolse al soldato che era rimasto con loro e chiese chi vi ha dato il permesso di celebrare la messa e il soldato disse il padre e lei immediatamente pensando che ancora non fossero andati a prendere le ostie e il vino andò nella sagrestia a chiudere gli armadi invece loro avevano già preso tutto l'occorrente per la messa a quel punto lei capì di essere stata tra virgolette scavalcata e quindi diciamo che la sua azione non era stata per così dire efficace aspettò la fine delle tre messe e per rimproverare i due sacerdoti che erano diciamo avevano violato le regole perché lei diceva io qui non faccio entrare nessuno altrimenti qui tutto diventa complicato se ogni sacerdote vuol dire la messa. Tenete conto che nell'ospedale militare spesso erano ricoverati anche dei sacerdoti quindi lei doveva fare un po' da guardiano per impedire chissà perché questo uso eccessivo della cappella interna. Comunque sta di fatto che dopo questo episodio che rischiava di essere davvero triste per padre Pio per quest'altro sacerdote soldato che poi si risolse attraverso questo guizzo di astuzia padre Pio riuscì ad ottenere un'altra convalescenza di sei mesi al termine della quale per evitare problemi come erano avvenuti in precedenza padre Benedetto consigliò di presentarsi spontaneamente anche se non arrivava la chiamata. Si presentò ancora all'ospedale militare padre Pio e da lì fu mandato alla prima clinica medica del policlinico della Reggio Università di Napoli dove furono diagnosticati tutti i problemi, infiltrazione agli apici polmonari, catarro bronchiale diffuso, aspetto scheletrito, nutrizione meschina, insomma c'era di tutto però dopo tutto questo fu dichiarato idoneo ai servizi interni e quindi fu assegnato alla decima compagnia della sanità ma presso la caserma Sales di Napoli e quindi di nuovo padre Pio stava per essere mandato all'attività militare sebbene con la clausola di servizi non pesanti. Il provinciale a questo punto tentò ricorrere ai ripari e quindi cercò anzitutto di tamponare l'emergenza nel collegio dove padre Pio era responsabile dei seminaristi ma d'altro canto cercò di trovare attraverso il vescovo di Lucera Monsignor Chieppa un appoggio presso l'ospedale militare dove era superiore una sorella del vescovo ma prima ancora che anche questo tentativo andasse a buon fine padre Pio arrivò ad ottenere il 16 marzo del 1918 il provvedimento di riforma dal servizio militare per bronchio alveolite doppia. E quindi termina così un po' la vita militare, la pausa militare nella sua vita del nostro caro amato San Pio da Pietricina. Per questione di tempo Stefano dobbiamo chiudere qui anche questa settimana questa nostra rubrica che torna come sempre lunedì prossimo con padre Pio storia di una vita. Grazie. A voi.